Domenica l'US Agropoli aspetta la capolista Torrecuso per chiudere una settimana che è cominciata con la vittoria a battipaglia e la qualificazione in Coppa a Bisceglie. Qualche acciacco da verificare per alcuni giocatori come Scognamiglio, che per ogni probabilità non sarà della contesa, recuperati a pieno Tarallo e Panini, mister Pirozzi potrebbe schierare la formazione tipo con qualche ballottaggio come Ficarrotta Ragosta in attacco e Giraldi Berretti in mezzo. Ma ci sono altri due allenamenti per chiarirsi le idee. Non si cede all'euforia nel clan dei Delfini perché battere la capolista Domenica significherebbe rientrare a pieno titolo nella lotta per il campionato e rilanciare definitivamente dopo un inizio difficile la squadra di Patron Cerruti. Oggi una seduta di allenamento pomeridiana, domani mattina rifinitura. Il Torrecuso è ancora imbattuta in questo inizio di campionato ed è allenata da mister Dellisanti, un ex che conquistò la salvezza ai play-out due stagioni fa proprio con l'Agropoli. Tra i giocatori più rappresentativi, Galizia Bomber con sette gol già all'attivo. Intanto si aspettano le date per gli ottavi di Coppa in cui l'Agropoli affronterà il Terracina tra le mura amiche.